Tante notizie in primo piano nel TGL News del 20 giugno. In primo piano la centrale di Caorso sono partiti da Artur, così viene chiamata dai piacentini, i primi 168 fusti radiattivi per il trattamento in Slovacchia, presto nei prossimi giorni ne partiranno altri 300 circa, dopodiché avviata questa sperimentazione, questa prova, dovrebbero arrivare anche gli altri 5600, sono infatti più di 6000 i fusti ancora contaminati presenti nella centrale di Caorso, il loro destino però è di tornare indietro una volta condizionati, una volta lavorati perché si attende appunto il deposito nazionale, dunque dalla Slovacchia rientreranno a Caorso dove nel frattempo saranno effettuati alcuni lavori, dopodiché dovranno essere destinati a deposito nazionale, un tema aperto da anni e ancora non c'è, non è stato individuato e chissà se lo sarà mai. Oggi è anche il giorno della maturità per oltre 2000 piacentini, precisamente 2057 studenti delle scuole della nostra provincia, in molti hanno sentito la tensione, hanno detto di aver passato una notte insonnia ma di essere abbastanza soddisfatti dei temi appunto che sono stati proposti oggi su tutti, l'analisi dei giardini, il giardino dei finzi contini come prova appunto di analisi, alcune anche sulla Costituzione, in generale diciamo soddisfatti, domani la seconda prova che cambia da istituto a istituto. C'è poi il tema della regolarità lavorativa perché è stato presentato oggi il bilancio dell'attività 2007 del rispettorato provinciale del lavoro, ebbene meno ispezioni più illeciti perché sono state ispezioni più mirate, tant'è vero che nel 59% dei casi sono state riscontrate irregolarità. Chiudiamo parlando di sport, è stato presentato il nuovo allenatore del Fiorenzuola, si chiama Lucio Brando, ha detto che vuole vincere ma soprattutto vuole divertire come chiede il presidente Pinalli. Tutto questo e molto altro sul nostro sito di Berta.it e ovviamente nel TGL delle 19.30.